Sì, sì, sono sicuro. Allora, chiesto a Dainese se voleva cantare un pezzo con noi, l'ho dovuto pregare. Non pregare no! Per me è un onore, soprattutto il barano che sostituisce, sto già dicendo la gran cazzata, è proprio quando cantare che sostituisce, che fa riposare, e lo dico, io non ho mai cantato, quindi lo leggerò proprio come facevano una volta quelli del telegiornale, e quindi... Come sto facendo io la stagetta, guarda? No, è vero, sei la solita cazzata. Dai, vabbè, giusto per fare un favore a un amico e a tutti i pizza, è un onore finalmente poter cantare con voi. Bravo, ci proviamo! Ci proviamo, dedicato anche tutto al The Web Italy, perché, insomma... Siamo veramente degli annoy, anche degli nerd, essere qui a contemplare questa bella, poi sono bravi, però, oh, non se ne caga nessuno qui in Italia, quindi godiamole noi stasera. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.